L'economia tedesca potrebbe essere entrata in recessione, anche se non profonda. Questo quanto comunicato dalla Bundesbank nel suo bollettino mensile, secondo cui il prodotto interno lordo potrebbe essersi ridotto nuovamente nel terzo trimestre del 2019, con l'export che continua a soffrire e gli indicatori di fiducia che non danno segni di ripresa. Tuttavia, la Bundesbank rassicura, una recessione nel senso di un calo significativo diffuso su vasta scala prolungato delle prestazioni economiche con capacità macroeconomiche non utilizzate, finora non si profila. Dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 scatterà il divieto per l'utilizzo del contante per importi superiori a 2.000 euro e dal 1 gennaio 2022 il divieto scatta 1.000 euro. Questi sono i limiti confermati nell'ultima bozza del decreto fiscale in materia di modifiche al regime di utilizzo del contante. Attualmente è vietato trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro e valuta estera per un totale pari o superiore a 3.000 euro. La nuova norma introduce modifiche che mirano a ridurre progressivamente le transazioni in contante effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Ho riferito al Copasir sul caso Barr. Le dichiarazioni sono coperte dal segreto. Non riferisco le cose dette ai componenti del Copasir, ma ho il dovere di riferire alcuni elementi di questa vicenda anche perché sono nate ricostruzioni fantasiose che rischiano di gettare ombre anche sul nostro operato istituzionale e non possiamo permettercelo. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte incontrando i giornalisti a Palazzo Chici dopo l'audizione al Copasir. È stato detto che la richiesta americana su uno scambio di informazioni è stata fatta ad agosto durante la crisi di governo. Falso. La richiesta risale a giugno. È stato detto che il famoso tweet di Trump, il cui esprime apprezzamento nei miei confronti, sarebbe collegato a questa vicenda. Anche questo è falso. Trump non mi ha mai parlato di questa inchiesta. All'Enea di Bologna è nato il primo archivio europeo dei codici sorgente, una raccolta di oltre 6 miliardi di file, la base per generare tutti i software disponibili pubblicamente a livello mondiale. Si tratta di un maxiarchivio che raccoglie, conserva e rende disponibile il DNA da cui nascono i programmi informatici open di Internet. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Software Heritage, promosso dall'Istituto Nazionale Francese per la ricerca nel campo dell'informatica e dell'automazione, in collaborazione con l'UNESCO. Una richiesta di risarcimento record è quella chiesta da un ex studente alla sua vecchia scuola d'Arezzo. 400 mila euro perché gli fu vietato di andare in gita ad Amsterdam con i compagni di classe a causa dei voti bassi. Da lì inizia a sentirsi discriminato e il rapporto con l'Istituto sfociò in una serie di vicissitudini e contrasti che lo portarono ad essere espulso dal liceo. Il fatto risale a ben 12 anni fa, quando il ragazzo aveva 20 anni. La Corte d'Appello di Firenze ha stabilito che il caso dovrà essere esaminato nel merito dal Tribunale Civile e non da quello amministrativo. La prima udienza si terrà nel 2020.